Tommaso Fassati Che si fa oggi? Oggi si prova a vincere anche se per noi è la prima partecipazione qui dunque proveremo a fare il nostro meglio ma non siamo più qui per partecipare proviamo a portarla a casa Tu sei capitano? Sì, capitano da qualche anno abbiamo fatto qualche torneo e abbiamo capito che era il momento di venire a fare zona gol Come mai? Cos'è che è scattato? Ma ci siamo sempre confrontati con altre squadre che hanno girato un po' abbiamo visto che era organizzato bene i campi qui sono belli le squadre sono forti speriamo di giocare in Serie A l'anno prossimo Quindi obiettivo? Promozione? Promozione e provare ad andare avanti il più possibile ai play-off L'Università li conoscete? Sì, conosciamo io conosco personalmente il loro centrocampista molto forte poi vedo qui che c'è il capitano della squadra avversaria che conosco anche sappiamo che sono forti hanno esperienza ma ce la giochiamo fino in fondo Tu ruolo? Fascia destra Quindi si segna anche a volte? Si passa Quindi tanti assist? Sì, tanta corsa Va bene, in bocca al lupo Buona partita Crepi, grazie Ciao Nome e cognome? Silvio Rivetti Ascolta Silvio, a parte la soggezione che mi metti perché quanto sei alto? Abbastanza 1,95 Ma avevo 95 con gli tanti gol di testa Ma sì, abbastanza direi Tu giochi? Gioco in fascia destra, sinistra in base alle esigenze Avrei detto attaccante o difensore centrale? Mi adatto cerco di adattarmi facilmente per le esigenze della squadra Invece voi come siete messi? Come squadra? Ma noi siamo messi bene stasera siamo al completo Ovviamente c'è tanta voglia di dimostrare che siamo una delle squadre diciamo pretendenti al titolo Da battere Sì, diciamo così c'è da convivere anche con quella pressione però siamo forti se giochiamo come sappiamo fare sicuramente riusciremo a portare a casa il risultato Ok, quindi ti scontri contro l'altro intervistato anche lui giocava in fascia mi ha detto Sì, sì però ho sentito che lui giocava a destra anche tu destra per esigenze gioca a sinistra sì, io spesso gioco a destra ma stasera mi schierò a sinistra sì, quindi ci incrociamo esatto, appunto Quindi sarà uno scontro Ma vediamo lui ha detto che la mette sulla corsa anche io cercherò di fare il mio ovviamente ci metterò anche un po' di fisico che vinca il migliore insomma Va bene ti ringrazio buona partita Mille, grazie a te Ciao Parto con dirti che calato il freddo Che è successo anche in campo? Beh, è successo che abbiamo incontrato una squadra che correva molto più di noi che era molto messa bene in campo e noi diciamo l'infortunio iniziale di Petramala ci ha sicuramente danneggiato molto loro sono riusciti fino in fondo a correre molto a metterci sempre in difficoltà in fondo l'hanno avuta vinta sicuramente la fortuna ha fatto un po' il suo però credo una vittoria meritata da loro Comunque partita equilibrata Sì, partita sicuramente equilibrata il risultato lo dimostro è finita comunque 3-2 all'ultimo minuto con un gran gol però si sono meritati il passaggio loro sicuramente Ora come si riparte? Spero dal prossimo anno con più voglia di vincere Va bene, ti ringrazio di essere venuto qua a non sento sconfino Grazie a voi Ciao, ciao, ciao Luca, gol vittoria e gol a qualificazione Sì, è andata bene all'ultimo minuto più o meno un po' di fortuna però sicuramente cercato visto che era la fine abbiamo cercato di dare il massimo e è venuto sto gol Sei uno che tira da lontano oppure era una... Sì, sì ne ho provati anche due prima che non hanno avuto buona fortuna però l'ultimo quello decisivo è andata bene dai, meno male Quindi umore alto Umore altissimo partita bella maschio, combattuta siamo contenti e adesso penseremo già alla prossima partita con ancora più voglia di vincere L'obiettivo è vincere? L'obiettivo è sempre vincere cercare di fare il meglio sempre per vincere Quello sì Ok, ti ringrazio Grazie a voi Complimenti per la vittoria Grazie Ciao